Pesaro è pronta ad ospitare per la tredicesima volta nella sua storia la nazionale italiana di basket e per la seconda volta consecutiva lo farà in un match ufficiale. Dopo Italia-Spagna di qualificazione mondiali di novembre 2022, domani giovedì 22 febbraio alle 20.30 parte da Italia-Turchia la corsa agli europei 2025 che si terranno in Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro. Domenica poi la seconda gara in Ungheria in un girone completato dall'Islanda. Intanto però il primo passo è in una Pesaro che annusa un nuovo sold out come ventilato questo pomeriggio nella conferenza stampa tenutasi in municipio da Federazione e team azzurro. Pesaro non tradisce mai la nazionale, c'è la storia di Pesaro che la dice lunga, dai tempi di Valtescavolini a oggi è sempre stato un tutto esaurito, non solamente per l'amore della nazionale ma anche per la squadra di casa, per cui noi siamo a casa, poi io sono particolarmente legato, tutti i miei figli hanno svezzato qui e sono tifosi anche della squadra di Pesaro basket e quindi io con grande gioia, certamente la partita sarà difficile, molto importante, la Turchia è una nazione che ama il basket, ci saranno anche dei tifosi della Turchia, questo non fa che arricchire l'importanza della partita. È un'Italia che riparte nel filo della continuità con nove reduci dai mondiali nelle Filippine come Spissu, Tonut, Ricci, Spagnolo, Polonara, Severini, Procida, Paiola e Melli che debutta Pesaro da capitano raccogliendo l'eredità di Gigi Datome alla sua prima da capodelegazione. È una nazionale che ha affrontato due competizioni più o meno con la stessa squadra, sicuramente con la stessa mentalità, con la stessa filosofia, una famiglia in largata dove non ci sono solo 12 giocatori ma ce ne sono di più, una squadra che sta bene insieme come si sta bene in famiglia e penso che sia indispensabile e poi penso che sia indispensabile poi in assoluto nel mondo dello sport. È un'emozione già di per sé essere capitano nazionale, far l'esorio diciamo ufficialmente non in sostituzione come era successo un paio di estate fa. Farlo a Pesaro ha un ulteriore significato per me perché ormai 13 o 14 anni fa ho giocato qua a Pesaro per un paio di mesi e quindi è un posto che porto nel cuore, è un palazzetto che porto nel cuore e sono contento di fare il mio esordio qua. Sicuramente la partita di domani sera con la Turchia è fondamentale, poi ci sarà la partita domenica in Ungheria e poi dopo quest'estate ci sarà il preolimpico, però un passo alla volta, intanto pensiamo alla Turchia e poi dopo quest'estate quando ci ritroveremo penseremo alle Olimpiadi. La verità è che non sono delle amichevoli, sono partite dove ci giochiamo la qualificazione all'europeo, ma i ragazzi ne sono consapevoli, la parte più complicata è eventualmente convincere i giocatori dell'importanza della partita, ma se domani dovessero giocare male non è sicuramente per questo motivo i ragazzi sono consapevoli di quello che fanno in maglia azzurra e lo fanno sempre con grande dedizione, discipline e professionalità. Sì, sarà la prima, farà da Uverture poi dopo la partita con l'Ungheria al preolimpico, il preolimpico è il sogno mio, ho fatto 13 o 14 olimpie, non mi ricordo nemmeno tra le stive invernali, è il sogno di tutti, il sogno di tutti, avete visto Sinner pure l'ha detto che il suo sogno adesso è prendere una medaglia all'Olimpiade, per lui sarà sufficientemente facile e per noi sarà importante almeno arrivarci.